Il mio cane sente una femmina in calore e non riesco più a gestirlo. Quante volte ho sentito questa frase, quante volte mi hanno detto le persone che il proprio cane è scappato per andare ad accoppiarsi con un altro cane. Quello che ti posso dire è che il cane può controllare il suo istinto solo se tu diventi un buon leader per lui. E te lo dico perché in casa ho due maschi interi e due femmine interi. Vuol dire che non sono castrate, vuol dire che possono andare in calore e che possono accoppiarsi. Ma questo non accade se non sono io a deciderlo, ovviamente, se i cani sono educati ed equilibrati. Quello che devi fare tu per avere un cane educato e equilibrato è semplicemente imparare a comunicare secondo le sue esigenze, rispettare i suoi principi fondamentali e la sua psicologia. E tutto il resto, come per magia, si risolverà. Niente previncivo, niente metodi duri, niente ore e ore di esercizio per arrivare a quel risultato. Ma solamente rispettare alcuni principi fondamentali del cane. Se vuoi scoprire quali sono, clicca qui sotto. Io ti saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao da Chris.